Si va in campo per chiudere la stagione regolare, ma il pensiero inevitabilmente si spinge e la doppia sfida e play-out in programma domenica 26 maggio e domenica 2 giugno. Andrea e Barletta si sono già date appuntamento a malincuore per questo derby fra Tricida. Avrebbero preferito ritrovarsi a braccetto salve nel campionato di prima divisione, invece dovranno giocarsela sul campo, una permanenza che gli azzurri hanno provato a conquistare direttamente e i biancorossi avevano rischiato di non vedere prima dell'arrivo di Orlandi in panchina. Saranno utili solo per le statistiche, le gare di domani pomeriggio a Prato e Benevento. L'Andria sale in Toscana con la leggerezza di chi l'ha scampata bella, perché è arrivata la penalizzazione della commissione disciplinare, 8 punti a fronte dei 13 richiesti dalla Procura federale, ma da scontare nella prossima stagione. Quella attuale rimane immune così da consentire alle azzurri di Cosco di giocarsi la salvezza sul campo. Contro il Prato ci sarà ampio turnover perché si pensa già al doppio derby e parecchie novità in formazione le proporrà anche Orlandi nel Barletta che affronta il Benevento. A riposo Allegretti e Lamantia, mentre non ci saranno Burzigotti, squalificato e Dibella in difesa, oltre a Dizia a centro campo. Non può invece permettersi calcoli preventivi il Lecce nell'ultima giornata del Girunea. Contro l'Albinoleffe bisogna vincere e attendere che da Cremona arrivino buone notizie. Lì è impegnato il Trapani, primo in classifica alla pari dei Salentini, ma in vantaggio negli scontri diretti. Per il Lecce, nella peggiore dell'ipotesi, ci sarebbe la strada dei play-off per arrivare in Serie B, anche se nessuno l'aveva messo in preventivo sino a solo due mesi fa.